Quest'oggi 23 luglio, in occasione del 25esimo anniversario della scomparza di Raul Gardini nella chiesa di San Rocco, è stata celebrata la messa in suffragio dell'imprenditore scomparso nel 1993 a Milano. Seduti in prima fila i figli di Raul e Idina, Eleonora, Ivan e Maria Speranza, e con loro alcuni amici e conoscenti, Don Ugo ha celebrato la messa ricordando la figura di Gardini. Questo ricordo è per noi motivo di attenta riflessione, perché non vogliamo che coloro che ci hanno raccettuto, compiendo opere buone, siano da noi dimenticati. Sono passati 25 anni, ma sembra solo ieri che il nostro amico e concittadino ci ha lasciati. Uomo intelligente, che ha sempre amato la sua città, cercando di essere innovativo, intuiva nuove strave e cercava di realizzare cose nuove per il bene di tutti, ha sottolineato Don Ugo.